Magia, stragonaria, paganesimo e ricominciamo la trasmissione continuando a leggere Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Allora, in Gesù di Nazareth, l'infamia umana, oggi da Matteo leggeremo le colpe dei farisei. Leggeremo le colpe dei farisei, commenteremo il passo del Vangelo delle colpe dei farisei da Matteo e le confronteremo con la storia di Fra Dolcino e le commenteremo mettendo insieme con la bolla di Clemente V e la re di Francia sulla rovina dei dolciniani. Commenteremo questo, per cui non prendo telefonate anche perché è abbastanza lungo. Vediamo un attimo. Le colpe dei farisei. Dal Vangelo, questo è lettura letterale, non prendo telefonate in questo momento finché non ho finito. Allora, Gesù, volgendosi alle turbe ai discepoli, disse Sulla cattedra dei Mosè si sono assisi gli iscrivi e i farisei. Fate dunque, fate dunque, e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere. Perché dicono e non fanno. Legano infatti i pesi gravi e insopportabili e li caricano sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono muovere neppure con un dito. Fanno tutte le loro azioni per essere veduti dagli uomini. Portano infatti larghe le loro filaterie e mettono lunghe frange nei mantelli. Amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe. Vogliono essere salutati nelle pubbliche piazze ed essere chiamati maestri dalla gente. Ma voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro. E voi siete tutti fratelli, voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. Ne fatevi chiamare dottori, perché uno solo è il vostro dottore, il Cristo. Chi è maggiore fra voi sarà vostro servo, chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché chiudete agli uomini il regno dei cieli e non entrate voi, né lasciate che entrino quelli che vorrebbero entrare. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per farvi anche un solo proselito. E quando lo è diventato ne fate un figlio della Gaenna, il doppio di voi. Guai a voi, giude ciechi, che dite, se uno giura per il tempio non è niente, ma se giura per tutto l'oro del tempio, resta obbligato. Insensati e ciechi, che cosa è più importante, l'oro o il tempio che santifica l'oro? Voi dite ancora, se uno giura per l'altare non è niente, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. C'è chi, che cos'è più importante, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi giura per l'altare giura per esso e per tutte le cose che vi stanno sopra. E chi giura per il tempio giura per esso e per chi lo abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che pagate un decimo della menta, della netta e del comino, e trascurate le cose più essenziali della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste sono cose che bisognava fare senza trascurare quelle. Guide ciechi, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere del piatto, mentre il di dentro è pieno di rapina e immonnezza. Fariseo cieco, lava prima l'interno del bicchiere del piatto, sicché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, i quali visti dal di fuori appaiono splendenti, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di putredine. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che fabbricate sepolcri ai profeti e ornate le tombe dei giusti, e dite, se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così voi attestate contro di essi di essere figli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate la misura dei padri vostri, serpenti, razza di vipere. Come scamperete la condanna della Gaenna? Perciò, ecco, io vi mando profeti, savi e scribi, ma di questi alcuni li ucciderete e li metterete in croce, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguirete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra dal sangue del giusto. Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Baracchia. Ricordiamo che Baracchia fu ucciso nel 70 d.C. Ben Baracchia fu ucciso nel 70 d.C. durante la rivolta degli Zelotti. Che voi li uccideste fra il santuario e il lealtare. In verità vi dico tutto ciò che avverrà su questa generazione. Tutto ciò avverrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e l'api di quelli che ti sono inviati. Quante volte ho dovuto radunare i tuoi figli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali? E non hai voluto? Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, poiché io vi dico non mi vedrete più finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questo qui è, se non sbaglio, Matteo. Non vorrei dire una sì. È Matteo. Le colpe dei farisei è il capitoletto e adesso lo commentiamo. Questo è lettura letterale, non è citazione memoria. Le colpe imputate da Gesù e i farisei sono le colpe imputate a chi aveva il desiderio di vivere secondo i propri dettami. Delle accuse lanciate da Gesù ci sono solo affermazioni ma nessun esempio, nessun fatto. Secondo Gesù i farisei vogliono essere serviti nella vita quotidiana, ma è esattamente quanto fa Gesù e i suoi seguaci. Infatti non lavorano. Gesù impone agli uomini di obbedire agli ordini dei loro padroni, ma di non anelare a loro volta a diventare padrone e ancora meno a tendere alla libertà. Egli vuole mantenere lo stato di schiavitù e accusa gli schiavisti di imporre lo schiavismo ai loro schiavi. Fate quanto vi dicono, sono i vostri padroni seduti sulla sedia di Mosè, ma non anelate a vostra volta di sedervi sulla stessa sedia. Essi sono seduti sulla sedia di Mosè e legano carichi e pesi pesanti sulla schiava degli uomini. Gesù si guarda bene dal dire agli uomini di liberarsi da quei pesi, ma loro non vogliono sporcarsi le mani e hanno ragione, sono seduti sulla cattedra di Mosè. Lo stesso faranno i cristiani quando si prenderanno la parte migliore, quello dei trafficanti di schiavi, ed useranno la scenografia per mettere in ginocchio gli schiavi. La scenografia come le basiliche e le chiese che i cristiani hanno costruito togliendo il pane di bocca agli affamati e gli stracci ai poveri. La scenografia quella che la chiesa impose agli schiavi nonostante le rivolte dei dolciniani e le prediche sulla povertà imposte ai poveri. I cristiani fanno di tutto per essere visti, ma maggiormente per appropriarsi dei meriti del lavoro degli schiavi. Gli schiavi scalano le vette della conoscenza e i cristiani impongono agli schiavi di ringraziare Dio per il suo aiuto. Gli schiavi si trascinano nel fango per uscire da situazioni disastrose e i cristiani impongono loro di ringraziare Dio per l'aiuto offerto. Le donne partoriscono nel dolore perché i cristiani hanno distrutto la conoscenza medica e i cristiani impongono alle donne di ringraziare Dio per l'aiuto. Ogni volta che gli schiavi sono costretti ad affrontare imprese in mani per fondare il futuro, i cristiani impongono loro di inginocchiarsi per pregare e ringraziare Dio. Gli esseri umani traggono la forza da sé per fondare il loro futuro e i cristiani vorrebbero rubargliela, mettendolo in ginocchio per nutrire il loro Dio di morte, distruggendo la fondazione del futuro. A Gesù non interessa la libertà degli esseri umani e gli vuole solo prendere il posto degli scribi e dei farisei. Gesù come maestro e tutti gli altri in ginocchio, prostrati ma fratelli nella schiavitù. E dopo Gesù saranno gli apostoli a mettere in ginocchio gli esseri umani e dopo gli apostoli saranno le varie chiese cristiane. prima e poi continueranno con l'aiuto dei musulmani. Gesù impone anche di rinnegare il padre in quanto ogni essere umano, secondo lui, deve sottomettersi al suo padre divino. Attraverso i cristiani distruggeranno la medicina, convinti che Gesù sia in grado di supplire al lavoro medico. Gesù è un pazzo e i fanatici pulluleranno nella storia umana. Per essere più convincente Gesù afferma che chi vuole primeggiare sarà servo, che nessuno osi scalare il cielo della conoscenza e della consapevolezza, cogliendo dall'albero del bene e del male, ma soprattutto che nessuno colga dall'albero della vita eterna. Chi cercherà la conoscenza sarà condannato, mentre chi aiuterà la chiesa cristiana a diffondere l'ignoranza e la sottomissione, umiliati, sarà esaltato. Questa è la maledizione che Gesù lancia sulla specie umana e quella maledizione sarà messa in atto da tutti gli eserciti al servizio dei cristiani, cristiani essi stessi. La seconda parte è molto più complessa. Gesù deve impedire a chiunque di diffondere il proprio pensiero e le proprie percezioni. Gesù non dice tu dici questo o fai quello e sbagli, ma dice tutti voi qualunque cosa dite e qualunque cosa fate comunque sbagliate. Questo rappresenta uno dei presupposti con i quali la chiesa cristiana si relaziona con il mondo circostante e con le diverse forme di pensiero. I cristiani perseguiteranno i socratici, salvo usare Socrate e il suo pensiero per riempire la vuotezza del pensiero del loro fondatore. Gesù afferma che né farisei né scribi entreranno nel regno dei cieli e attraverso la loro azione di proselitismo impediscono ai loro discepoli di entrarci. Ciò che rende ipocriti per Gesù è l'attenzione degli esseri umani a diffondere quanto hanno compreso, tentando di ampliarlo. Per Gesù è ipocrita la diffusione del proprio pensiero, quando non è accettazione e critica al suo dire in quanto figlio di Dio. Solo chi si mette in ginocchio davanti a lui e alla sua parola viene premiato col regno dei cieli. La parola di Dio suo padre risulta essere così vuota e così miserabile che deve essere avvolta col terrore e la minaccia della gaenna per essere diffusa. Il creatore dell'universo deve minacciare e ricattare come un volgare bandito da strada per diffondere il proprio pensiero. Il punto è che non esiste pensiero, ma solo in posizione di accettazione e critica di affermazioni vuote, Proprio perché sono affermazioni vuote, la Chiesa cristiana praticherà il terrore sistematico. Non parlo soltanto del terrore registrato storicamente, di cui citeremo più avanti qualche episodio, ma del terrore quotidiano inferto uomini e donne dai preti e dalle congregazioni religiose per impedire loro di migliori condizioni di vita. Parlo delle centinaia d'anni di schiavismo cui è stata sottoposta la donna da parte dei cristiani e che vogliono riprendere cercando di cancellare le conquiste sociali. Vedi ad esempio la difesa operata dalla Chiesa cattolica della diffusione dell'integralismo islamico sia per quanto riguarda la questione Afghanistan che per quanto riguarda l'intervento della comunità cattolica di Sant'Egidio in appoggio all'integralismo musulmano in Algeria. E non mi sto riferendo soltanto alle leggi ma ai comportamenti quotidiani operati da ogni singolo cristiano. Il terrore è l'unico modo che le Chiese cristiane hanno avuto per diffondere la parola del loro pazzo fondatore. Senza il terrore la parola del loro fondatore appare perciò che è, vuota. Ma il terrore propagato dalle Chiese cristiane e da quella cattolica in particolare non è frutto del singolo individuo ma è obbedienza al dettame del suo fondatore. Dunque l'imputazione per ogni singolo atto commesso non è semplicemente personale per chi lo commette ma è esteso come complicità morale a ogni singolo cristiano in quanto l'atto è dettato dal loro fondatore. Quel guai a voi lascia aperta ogni interpretazione ma l'interpretazione autentica si legge nel fare della Chiesa cristiana nel suo modo di procurarsi i proseliti nel suo modo di relazionarsi con gli esseri umani di altre fedi la Chiesa cristiana ha sempre imposto sottomissione con la morte le torture e la galera dunque quel guai a voi di Gesù intendeva esattamente questo sottomettetevi o i miei seguaci vi faranno a pezzi quanto era miserabile il figlio di chi si milantava creatore e padrone dell'universo. Le minacce sono l'unica cosa che riescono bene a Gesù forse meglio dei suoi milantati miracoli come può un individuo anche come figlio di Dio creatore accusare un maestro di traviare un suo seguace forse per l'invidia di non disporre gli stessi dello stesso seguace inoltre come posso superare la forma per arrivare al significato soggettivo di quanto intende l'antagonista di Gesù chi non la pensa come Gesù è come è o è come Gesù vuole che sia il significato del giuramento è quanto Gesù mette in evidenza o il significato è diverso e Gesù vuole afferrare e mettere a fuoco la nostra attenzione su un aspetto specifico che a lui interessa il giuramento è un atto soggettivo e deve essere mantenuto nei limiti del possibile in quanto impegno soggettivo a Roma i pagani punivano la violazione dei giuramenti importati dei giuramenti con la morte non tanto per aver violato il giuramento ma per il furto di fiducia che la società subiva attraverso la violazione intenzionale del giuramento stesso il giuramento è l'atto del soggetto ed è importante in quanto atto del soggetto a cosa il soggetto lo riferisca è irrilevante per il giuramento è importante soltanto per gli astanti che si sentono rassicurati del referente del giuramento l'obbligo è un elemento soggettivo appare dunque fuori luogo l'affermazione di Gesù secondo cui i farisei imponevano di giurare per tutto l'oro del tempio in quanto in quel modo chi giurava rimaneva legato al giuramento stesso a meno che l'oro del tempio non fosse un termine più comune è immediato per definire l'arca dell'alleanza fatta in oro e allora il senso cambia il giuramento sul tempio non aveva valore ma giurare sull'alleanza fra il popolo ebreo e il dio era completamente diverso se così fosse è meglio che Gesù si desse una piccola registrata sul senso delle parole il suo è un tentativo di far apparire i farisei sotto un aspetto che a lui conviene per indicarli come cattivi il suo problema è cattivi rispetto a quale alternativa? mettersi in ginocchio davanti a lui che si proclamava figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra? i farisei erano attenti a pagare le tasse i cristiani saranno molto attenti a non pagarle facendole pagare agli schiavi questo si deduce dalle parole di Gesù e dal divenire storico di cui la chiesa cristiana ha detenuto il potere per molti secoli e quando Gesù parla di giustizia cosa si riferisce? alla giustizia all'interno delle leggi o a una giustizia fuori delle leggi ad una condizione sociale o ad una condizione morale qualunque interpretazione morale qualunque interpretazione è buona la chiesa cristiana può dire di aver rispettato le leggi le faceva lei e come le faceva poteva sollevare tutte le eccezioni che riteneva opportune poteva interpretarle come meglio credeva poteva modificarle a piacimento chiamando tutto questo giustizia nello stesso tempo altri esseri umani intendono per giustizia cose diverse anche l'anelito verso la libertà di non mettersi in ginocchio davanti al dio assassino di cui la chiesa cristiana si faceva portavoce quale giustizia Gesù e i cristiani intendessero? alla storia la sentenza c'è nei cristiani lo stile di accusare di malefatti ogni essere umano che non sia della loro religione fino ad accusarlo di delitti che essi ritengono atroci vedi le accuse di cannibalismo diffuse dei missionari nei confronti delle popolazioni africane salvo poi moltiplicare per mille le atrocità quando sono in grado di introdurre i loro eserciti per sottomettere le popolazioni più deboli la costruzione dei ghetti e delle bidonville nelle quali segregare milioni di esseri umani è una delle costruzioni laghia del pensiero di Gesù e dei suoi seguaci la penultima parte è composta soltanto da una sequenza di ingiurie gratuite atta a dimostrare quanto in basso sia caduto moralmente il figlio del macellaio di Sodoma Gomorra e gli accusa e accusa ingiuria e ingiuria giocando sulle colpe dei padri che ricadono sui figli domanda vale anche per i cristiani? le colpe del macellaio di Sodoma Gomorra sono ricadute sul suo figlio già deve sopportare il peso della propria pazzia per prendersi anche quello di qualcun altro chiunque questo sia poi ricordiamo che Ben Balachia fu ammazzato nel 70 d.C. questo ce lo dice Flavio Giuseppe lo storico ebreo l'ultima parte non è di Gesù è dell'evangelista veramente sorge il sospetto che anche quanto sopra sia un'invenzione per i suoi fini è della comunità a cui appartiene pertanto non vale neanche la pena di commentarla questo è il commento al passo evangelico puro e semplice e adesso veniamo a Fradolcino chi è questo Fradolcino? ricordo sempre che per noi ogni respiro di libertà che è avvenuto nella storia ci appartiene perché obbedisce allo stesso divino Fradolcino fu capo del movimento ereticale Osso la metà del XIII secolo Novara 1307 si mise a capo della sette degli apostolici come continuatore dell'opera di Segarelli dopo che questi era finito sul rogo la sua predicazione aumentò i proseliti in seguito alla crociata bandita contro di lui da Clemente V nel 1306 perseguitato dai vescovi in armi di Vercelli e Novara si asserragliò nei monti tra il biellese e l'Ossola con parecchie migliaia di uomini finché tutti furono sterminati e lo stesso Fradolcino condannato a rogo con la moglie Margherita da Trento si sa da lettere superstiti indirizzati ai capi delle diocesi che sosteneva di trarre le sue dottrine da rivelazioni ricevute annunciò di essere inviato per annunciare all'umanità alla fine del quarto ed ultimo periodo quella della soppressione della soppressione della riproduzione poiché la chiesa del terzo periodo era stata rinnovata dai grandi purificatori come San Francesco e San Domenico si atteggiò allora profeta presando a parallelismi a Giacomo da Fiore annunciando dopo tre anni dopo tre anni dell'indegno pontificato di Bonifacio VIII ad opera di Ferdinando d'Aragona che avrebbe instaurato in terra un regime di equità col trionfo dello spirito di Dio questo è preso dalla grande enciclopedia O'Epli e fa capire che Fradolcino era uno che stava combattendo la chiesa e che aveva una relazione col circostante e lui prendeva rivelazioni da qualche immagine cristiana però aveva percezione di questo e il suo proposito era quello di spostare gli elementi di libertà ricordo che Margherita da Trento era in realtà qua di Roana dell'altipiano di Asiago ed è un posto molto magico esiste ancora la chiesa anche se dedicata a Margherita che non è quella Margherita chiaramente però lei viene da un ex paese l'ha attaccato che fu raso al suolo ed è un posto magico Roana ha parecchi poteri magici che giocano a favore questo è Fradolcino vediamo adesso la bolla di Clemente V re di Francia sulla rovina dei dolciniani benissimo adesso vediamo come viene attuata la pietà cristiana e la vediamo dalla bocca di un papa ricordo sempre che la chiesa non ha mai sbagliato e secondo le sacre scritture non sbaglierà mai ricordatevi sempre questo il vescovo Clemente servo dei servi di Dio saluta ed impartisce l'apostolica benedizione all'illustre carissimo figlio in Cristo Filippo re di Francia tra tutti i principi della terra ti sappiamo qual astro il più lucente che brilla per devozione pura e piena della vera religione e della fede ortodossa che ti adoperi con tutte le tue forze quale validissimo campione di Cristo nella difesa di essa tanto che ti rattristi nei momenti di avversità per la fede cattolica ed esulti quando essa trionfa quando ti rendo partecipe di entrambi i momenti meglio e giusto che sia per il più cristiano fra i principi ragion per cui ogni qual volta ci giunge lieta novella sullo stato di salute della Santa Chiesa Romana e di tutta la cristianità con animo lieto immediatamente ti informiamo quale figlio amatissimo che abbracciamo con il più sincero affetto con tanto più affetto perché ti sappiamo ferventissimo zellatore della stessa fede cattolica sapendo così di suscitare in ciò il tuo animo alle gioie della Letizia va bene andiamo avanti ecco che in questo giorno presente dopo il vespro c'è giunta la notizia ricca di grandissima esultanza che quel demone pestifero figlio di Belial e resi arca quanto mai orrendo dolcino per prodigioso miracolo di Dio non per la gente che sgozzava non per i suoi vescovi che sgozzavano la gente dopo grandi stragi fatiche, pericoli e spese pesantissime finalmente è stato assicurato con molti suoi seguaci alle nostre carceri per opera del venerabile fratello nostro Rainiero vescovo di Vercelli ed è stato catturato nello scorso santo giorno della cena del Signore dagli uomini del vescovo e un'immensa schiera che stava con lui e da lui era stata appestata ricordatevi sempre quando vi ho detto che i nemici sono degli appestati sono dei mangiatori di bambini e il crogiolo del male ve l'ho letto questo è stata in quel giorno uccisa e perché tu possa pieno conoscere il modo e la maniera con cui si sono svolte le stragi e la cattura e al fine le stragi fatte dai cattolici e dai dolciniani al fine di accrescere la tua gioia ti inviamo allegata alla presente la fedele trascrizione delle lettere inviateci a tal proposito dal vescovo e da Simone Avogadri di Collabiano cittadino di Vercelli ti preghiamo pertanto e ti esortiamo particolarmente a trovare in esse motivo per ringraziare con umile e devota mente nostro Signore Gesù Cristo meditando su come la clemenza del Padre Celeste con occhio di pietosa compassione continuamente vegli sul genere umano dei cristiani e quanto ciotorni a vantaggio del nome cristiano dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla fede cattolica per mirifica volontà divina sono estirpati alle radici non ammazziate no ma per volontà divina cioè proprio Dio cioè non è la spada che taglia le gole è Dio cioè davvero non sono le spade che tagliano le gole non sono gli eroghi che si accende no è proprio Dio io al loro Dio gli spacco il culo basta che dopo li mettono sul ruogo nessun problema benissimo questo è questo è il passo che abbiamo letto sono le colpe di Farisei abbiamo commentato le colpe di Farisei abbiamo visto che Fra Dolcino uno che voleva abbattere la ricchezza della chiesa uno che diceva che i preti ricchi vanno messi in agogna la gente non deve pagare le tasse bisogna costruire il benessere sociale e per costruire il benessere sociale bisogna abbattere la chiesa la chiesa ha reagito la chiesa ha reagito li hanno massacrati tutti quanti li hanno bruciati non li hanno bruciati perché il nemico va sconfitto li hanno bruciati perché erano eretici orrendi indemoniati poi avevano la peste non erano uomini che cercavano libertà non erano neanche uomini erano pestiferi erano merda chi combatte Dio è merda ricordatevi sempre questi atteggiamenti della chiesa perché non sono diversi cioè Voitilo non è diverso da Clemente V non esiste una diversa sono la stessa cosa agiscono in situazioni diverse se Voitilo facesse le stesse cose di Clemente si smaschererebbe però sta tentando di farne Cuba esempio commento le colpe dei farisei di Matteo e Fradolcino Fradolcino è un cristiano Fradolcino crede nel cristianesimo non nell'insieme del cristianesimo ma solo in quella parte che davanti agli affanni dell'esistenza non si sceglie la parte migliore egli non dice il cristianesimo è nemico della vita egli dice l'interpretazione del cristianesimo che voi date è nemica della vita questo sarà un leitmotiv attraverso cui il cristianesimo tenterà di sopravvivere quando i sistemi sociali in cui opera gli si scateneranno contro non è Gesù che semina pulsione di morte e schiavismo ma sono i preti e il papa eccetera ecco nel gioco per la sopravvivenza vengono sacrificati un certo numero di prelati per continuare a riprodurre la pulsione di morte questo modo di pensare di agire è sempre stato un compromesso anche per le frange di pensiero filosofico atee che hanno sì negato Dio ma mai hanno messo in discussione la bontà di Gesù permettendo così la riproduzione in forma diversa e adattata alle nuove situazioni dell'apparato quercitivo cattolico cristiano Fra Dolcino ha una particolarità da alcune lettere appare come un invasato un pazzo farneticante affermava di trarre i suoi insegnamenti da rivelazioni ricevute diceva di essere inviato per annunciare all'umanità alla fine del quarto ed ultimo periodo predicava la povertà del clero e dei servi di Dio e combatteva violentemente l'arricchimento dei vescovi ottenuto in danno delle popolazioni Fra Dolcino si era seduto su una cattedra e intendeva agire secondo i suoi stessi detami era uguale a se stesso cosa voleva Fra Dolcino voleva che chi caricava carichi pesanti sulle spalle degli esseri umani socialmente più deboli se ne accollasse almeno una parte voleva che quelli che si definiscono servi di Dio cessassero di usare mantelli e scenografie per ingannare gli esseri umani a cui rubano il pane dalle mani Fra Dolcino voleva dischiudere il regno dei cieli e gli esseri umani rimuovendo quelli che secondo lui erano gli ostacoli la predicazione di Fra Dolcino non portava direttamente a libertà ma tendeva a portare il pane sulla tavola di chi era costretto a mendicarlo per la propria sopravvivenza relazioni ricevute nella sua pratica monastica attraverso il suo fare o attraverso una formidabile sensibilità era riuscito a superare la barriera del quotidiano della ragione era riuscito ad alterare i sensi l'astinenza sessuale provoca blocchi della energia vitale che possono produrre fenomeni di alterazione percettiva pratiche particolari di meditazioni o funghi in farine per panificazione andata male o con presenza di funghi relazionandosi col circostante nella forma in cui era stato educato a percepire quel circostante probabilmente si è trovato in un paradiso popolato dai suoi personaggi preferiti che gli hanno dato l'esempio e lo stimolo per perseverare nei suoi propositi Fra Dolcino aveva alterato la percezione entrando in relazione col circostante senza farsi assoggettare da quel circostante ma usandolo per scatenare il fuoco che bruciava dentro di lui la percezione non era occasionale non è stata quella di Tommaso d'Aquino che lo imprigionò per tutta la vita Fra Dolcino era già disciplinato attraverso la sua pratica nel quotidiano le sue scelte quando incontrò le sue visioni e le percezioni del circostante già percepiva le linee di tensione i bisogni e le angosce degli esseri umani della sua specie le visioni non hanno fatto altro che scatenare la furia dentro Fra Dolcino fornendolo di strumenti ideali attraverso i quali esprimersi Fra Dolcino divenne un catalizzatore delle linee di tensione che dalla disperazione degli esseri umani confluivano verso di lui le interpretazioni che lui dava al circostante percepito attraverso le sue visioni appartengono soltanto a lui al proprio divenuto e alla sua struttura educazionale il circostante è sempre pronto a cogliere l'occasione attraverso la quale estendere libertà il circostante preme sugli esseri umani ed agisce quando trova sincronia e rispondenza Fra Dolcino imputava la chiesa cattolica quanto proferito da Gesù guida cieche voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello guai a voi scrive a farisei ipocriti che pulite il di fuori del bicchiere il piatto mentre il di dentro è pieno di rapina e monnezza Roma Roma o Gerusalemme Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati quante volte hai dovuto radunare i tuoi figli come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali e non hai voluto naturalmente la chiesa cattolica rovesciava questo e ha ben ragione non era lei forse l'incarnazione di Gesù in terra non era lei la sposa di Gesù puttana di Gesù replicava Fra Dolcino da osservatori estrani dalla torre gettiamo chi ruba il pane dalle mani di chi non si può difendere la chiesa cattolica dice che Gesù parlava così dei farisei non di se stessa non di se stesso dunque lei era autorizzata a comportarsi in quel modo in quanto quello era l'unico modo che conosceva le chiese cattoliche la chiesa cattolica non poteva continuare a seminare pulsioni di morte se fosse stata povera se avesse rinunciato all'inganno e alla menzogna se avesse rinunciato a seminare miseria se avesse rinunciato a rubare il pane dalle mani di chi non si poteva difendere Marta e Maria sono entrati in contrasto Marta e sua sorella Maria sono in guerra la sorella di Marta si è presa la parte migliore vedi Luca Marta rivendica il diritto affinché i pesi gravosi non gli siano legati addosso nessuna delle due dice Gesù sei un figlio di puttana ma si scannano a Vicenza a Vicenza senza per questo alterare l'oggetto del contendere non sta a me dire delle due chi ha ragione nella disputa religiosa il mio compito è quello di rilevare la relazione prodotta dallo scontro e l'azione svolta dal circostante attraverso la quale sviluppare il principio libertà il circostante non poteva imporre libertà ai cristiani ma ha favorito lo sviluppo delle contraddizioni che servono agli esseri umani per sviluppare tale principio in soddisfazione dei propri bisogni la percezione di Fradolcino sulla quale è intervenuto il circostante era quella raggiunta da Fradolcino attraverso il suo fare se egli avesse avuto memoria della sequenza delle scelte che hanno sviluppato quel fare e non avesse dovuto subire un condizionamento che lo costringeva a pensare l'esistente come creato anziché come divenuto avrebbe potuto intuire che quanto costruiva non era l'assoluto ma poteva svilupparsi ulteriormente il circostante ha favorito lo sviluppo della percezione di Fradolcino partendo da ciò che Fradolcino era e nel tempo in cui Fradolcino agiva al circostante interessava gettare i semi di libertà in terra fertile Fradolcino era riuscito a dispiegare le ali della propria percezione cogliendoli e trasformandoli in albero del divenire umano giustizia per Fradolcino passava attraverso la lettura di questo passo evangelico nel quale identificava i farisei con il clero cattolico ogni cosa che egli imputava al clero cattolico le trovava nelle accuse che in Matteo Gesù rivolgeva ai farisei a Fradolcino non passava minimamente per la testa che gli intenti di Gesù fossero diversi da quelli che egli immaginava e che l'impatto emotivo a prima vista lasciava intravedere egli immaginava che i farisei del suo tempo altro non erano che le gerarchie religiose le gerarchie ecclesiastiche non possono permettere per quanto è loro possibile a nessuno di percepire il circostante il circostante induce l'essere umano alla libertà oppure lo convince di essere un eletto con poteri o mandati divini in entrambi i casi il contatto col circostante da parte degli esseri umani produce contraddizioni e scontri difficilmente gestibili dalle chiese cristiane quando Fra Dolcino e prima di lui suo predecessore iniziò a predicare il clero cattolico si trovò nelle stesse condizioni in cui si trovò il sinedrio di Gerusalemme allorché dovete processare Gesù che si dichiarava figlio del loro Dio Dio egli stesso la chiesa cattolica doveva condannare la chiesa cattolica doveva condannare a morte distruggerlo la sua predicazione lungi dall'essere deleterio al cristianesimo era distruttiva nei confronti di quella gerarchia che quel cristianesimo voleva gestire per seminare pulsioni di morte attraverso lo sviluppo della sottomissione e della miseria ecco la gerarchia eclesiastica a dire a Fra Dolcino qualunque cosa dici e qualunque cosa fai comunque sbagli sia Fra Dolcino che la chiesa cattolica si identificavano in Gesù ed agirano uno contro l'altro come Gesù avrebbe fatto se avesse potuto o se avesse avuto la forza contro i farisei le accuse che Gesù muoveva i farisei erano false è come dire che dal momento che un ladro appartiene ad un popolo tutto quel popolo è ladro si chiama razzismo questo o comunque le loro colpe non erano tanto grandi se confrontate con quelle che aveva la chiesa cattolica accumulato dalla sua nascita allo scontro con Fra Dolcino per Fra Dolcino non era importante stabilire se Gesù mentiva o meno importava solo la descrizione che Matteo ne faceva e i farisei per lui li aveva davanti incarnati nel clero cattolico e nel suo fare sia Fra Dolcino che i suoi seguaci che la chiesa cattolica usavano la violenza estrema per imporre le loro ragioni sulla violenza non si discute sui fini della violenza non si può discutere si può discutere su chi usando la violenza per primo costringe l'antagonista alla reazione si può distinguere la violenza per legittima difesa l'oggettività in cui Fra Dolcino si muoveva e che intendeva cambiare era un'oggettività di miseria e quella miseria era stata costruita giorno dopo giorno dalla violenza del clero cristiano sulla gente a cui rubava il pane dalle mani Fra Dolcino reagisce alla violenza reagisce alla volontà del clero cattolico di mettere in ginocchio di mettere in ginocchio davanti al macellaio di Sodome Gomorra reagisce alla violenza con cui il clero si appropria accumulandole ricchezza esistevano altre vie per modificare quella situazione a Fra Dolcino quelle vie a Fra Dolcino erano aperte altre vie per impedire che la gente fosse messa in ginocchio e privata del pane se non c'erano altre vie se non quelle della supplica e dell'emosina quella di Fra Dolcino era legittima difesa la violenza è il metodo degli incapaci e l'ultima risorsa dei disperati la furia dell'essere leone quando viene messo con le spalle al muro e non gli si è lasciata nessun'altra via non nasce dalla malvagità dell'essere leone ma da coloro che non gli hanno lasciato altra scelta quali erano i fini della violenza nell'invettiva di Gesù contro i farisei sono chiari Gesù intende colpevolizzare i farisei al di là del loro fare le accuse di Gesù sono false e vuote ma articolate per ottenere un effetto suggestivo sullo spettatore quali erano i fini della chiesa cattolica soggiogare le persone rendendo le schiave e dipendenti da essa per continuare a coltivare la pulsione di morte attraverso la diffusione della miseria quali sono gli intenti di Fradolcino costringere la chiesa cattolica a rinunciare alla ricchezza per migliorare le condizioni di vita della gente una crociata probabilmente pronta a partire per Gerusalemme venne deviata e agli ordini del vescovo di Vercelli va a distruggere le valli in cui Fradolcino e i suoi si sono ritirati è un massacro e cristiani non risparmiano né uomini né donne né bambini ancora nel 1992 la chiesa cattolica per volontà di Voitila nel suo Vangelo Universale scrive difendere il bene della società esige che si ponga chi aggredisce in condizioni di non nuocere per questo l'insegnamento tradizionale della chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto senza escludere in casi gravi in casi di estrema gravità la pena di morte analoghi motivi i detentori dell'autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile e aggiunge se i mezzi incruenti sono sufficienti l'autorità si limiti a quei mezzi naturalmente nella loro pazzia i cristiani si identificano col loro dio rubano in nome del loro dio costruiscono miseria in nome del loro dio seminano pulsioni di morte nel nome del loro dio fomentano guerre e stragi nel nome del loro dio essi sono l'autorità essi si arrogano il diritto di usare le armi contro gli aggressori identificando come tali quelli che non vogliono mettersi in ginocchio davanti al loro dio non c'è differenza fra Clemente Quinto e Voitila entrambi vogliono gli esseri umani in ginocchio per poter creare miseria solo le condizioni sono diverse entrambi negano il diritto umano all'autodeterminazione dell'esistenza entrambi sono responsabili di stragi stupri violenze tortura alla gente che non si può difendere come responsabile di questo è il loro dio essi sono l'autorità e come tale si arrogano il diritto di costruire miseria nella quale estendere il loro dominio solo il possesso di schiavi può uccidere torturare incarcerare qualora il suo traffico sia in pericolo questa è la chiave di lettura del pericolo delle comunità data dal catechismo cattolico gli schiavi debbono solo obbedienza devono prostrarsi e supplicare senza mettere in pericolo il commercio di loro stessi il vescovo di vercelli non può risparmiare né uomini né donne né bambini i cristiani temono che anche un solo sopravvissuto possa ricordare il senso della predicazione di fradolcino i cristiani cattolici sono terrorizzati che questo possa cadere e per questo si impegnano nei massacri più feroci di questi massacri leggiamo l'esultanza del papa clemente quinto esulta per le stragi esulta per le uccisioni esulta perché attraverso di lui Gesù di Nazareth ha potuto massacrare i farisei esulta perché quella mattanza gli consente di dimostrare voi non vogliate essere chiamati maestri perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli in ginocchio davanti al maestro altrimenti predecessori e successori di clemente quinto gli spezzeranno le gambe e non chiamate nessuno sulla terra padre vostro ne fatevi chiamare i dottori tantomeno seminate il principio speranza così le chiese cristiane e quella cattolica in particolare riafferma la fede la feroce di Gesù contro i ferisei Matteo e la stessa feroce di clemente quinto contro i dolciniani il motore è lo stesso le condizioni e i rapporti sono diversi la gioia e l'esultanza psicologica quella quale clemente quinto scrive a filippo re di francia indica che quanto è avvenuto è avvenuto per la gloria della chiesa cattolica il trionfo di Gesù la lettera si apre con un'esaltazione delle doti del re e della sua devozione al fare della chiesa cattolica la lettera del papa è rivolta al re di francia e non al contadino bracciante della garonna o un suo pari è importante in quanto nell'insieme la lettera ribadisce un concetto fondamentale dell'ideologia cristiana è come se clemente quinto dicesse a filippo che lui è il padrone e che filippo è bravo a riconoscerlo come padrone proteggendo lui come tale e che insieme devono gioire in quanto i pezzenti non sono riusciti a conquistare nessun tipo di libertà loro si raccontano che fra dolcino in realtà non voleva veramente che il clero diventasse povero e alleviare le pene dei poveri ma voleva diventare un padrone del loro stesso del loro stesso rancos spodestandoli per gestire il traffico degli schiavi leggi fedeli per questo motivo esprimono grande gioia clemente quinto e filippo sanno perfettamente che lo scontro fu fra il potere di avere che loro detenevano e rappresentavano e il potere di essere che spingeva verso un qualche tipo di libertà chiedendo la soddisfazione di qualche bisogno contingente il pane ma non lo potevano né scrivere né ammettere in quanto essi non potevano ammettere nessun tipo di libertà che non fosse quella di inginocchiarsi supplicando davanti a loro da qui l'irrefrenabile gioia dei padroni di schiavi dal momento che è allontanato un pericolo continuano ad assicurarsi il potere le stragi compiute dal vescovo di Varese rappresentano la lieta novella rappresentano la traduzione pratica della predicazione di Gesù ti comunichiamo dice clemente quinto la lieta novella in quanto ti sappiamo fervissimo e zelante della stessa fede cattolica in altre parole perché sappiamo che la chiesa cattolica che per la chiesa cattolica tu commetteresti stragi stupri e violenze di ogni genere nei tuoi domini c'è giunta notizia che dolcino finalmente è stato assicurato con molti suoi sui guaci ai nostri carceri ad opera del vescovo reniero no troppo semplice è necessario che fra dolcino non sia un uomo con degli obiettivi e degli ideali gli ideali rimangono dopo la morte dell'ideatore fra dolcino deve essere definito idealista matto nella migliore tradizione della chiesa cattolica dolcino viene definito come un demone pestifero non sono solo i demoni ad opporsi alla predicazione di Gesù fra la gente apportatore di peste figlio di Belial Gesù era figlio di Dio e dolcino viene definito figlio di Satana eresiarca quanto mai orrendo non solo pensava in modo diverso ma opponeva resistenza alle violenze della chiesa cattolica fra dolcino viene definito esattamente come Gesù definiva chi contestava le sue millantate verità fra dolcino fu definito esattamente come la chiesa cattolica definisce chi le contesta l'autorità morale di seminare miseria e pulsione di morte le chiese cristiane e quella cattolica in particolare non possono far diversamente non è lei la sposa di Gesù non è lei l'interprete della parola divina non è il loro Dio il creatore dell'esistente dunque se qualche cosa di giusto può esistere Dio l'avrebbe dato alla chiesa cattolica vuoi che Gesù figlio della sapienza assoluta non conoscesse la verità e non l'abbia trasmessa alla chiesa cristiana da questo presupposto fra dolcino non poteva avere nessun ideale se non quelli ispirati da Satana se le cose stessero così allora Satana ispira ogni ideale di libertà mentre Dio ispira gli atti diretti alla sottomissione a critica e allo schiavismo peccato che il Dio creatore dell'universo non esista e non esista nemmeno il suo omologo avversario e che l'ispiratore della libertà nelle diverse situazioni della vita altro non sia che il circostante nella sua marcia attraverso i mutamenti per diventare eterno il concetto di ripudio della figura di fradolcino viene imposto da Clemente Quinto allo scopo di impedire lo studio delle sue idee fermando lo spettatore alla definizione mediante aggettivi imposti con la stessa tecnica dell'esaltazione attraverso aggettivi viene definita la mattanza eseguita dal Vescovo di Vercelli occultandone la bestialità la ferratezza e la vigliaccheria delle azioni dello stesso Vescovo quella mattanza è stata eseguita da un venerabile fratello degno di venerazione per aver eseguito la mattanza per prodigioso miracolo divino questo fratello operato insieme in accordo con Dio è portata avanti con fatica pericoli e grandi spese le spese sono quanto interessano il Papa anche se la spesa la speranza di rifarsi col sfruttamento delle valli strappate ai seguaci di fradolcino in questo scontro il cristianesimo si è giocato tutto Dio compreso le stragi commesse rappresentano la clemenza del Padre Celeste scusate dunque del Padre Celeste le stragi commesse rappresentano la clemenza del Padre Celeste ci ha conservato il posto mentre fradolcino voleva deporsi trasformandoci in poveri questo è un vero miracolo che veglia sul genere umano dei cristiani e quando ci torni a vantaggio del nome cristiano dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla Chiesa Cattolica per mirifica eserciti spade canoni bombe campi di esterminio finanziamenti estorti ricatti morali e materiali eccetera compongono la mirifica volontà divina sembra che i miracoli i cristiani li facciano solo in questo modo sono volontà divina sono estirpati alle radici fradolcino appartiene al suo tempo il suo fare i suoi desideri le sue aspirazioni la sua percezione del circostante appartiene alla relazione fra sé l'oggettività in cui è vissuto appartengono all'articolazione e al divenire del proprio condizionamento educazionale in fradolcino si scorge cerere che bloccata dalla miseria cristiana spinge per crescere fradolcino merita rispetto un immenso rispetto meritano tutti coloro che i cristiani cattolici hanno bruciato sui roghi e i veri altari che la Chiesa Cattolica è retto al Gesù di Nazareth un immenso rispetto meritano tutti coloro che per spezzare il sogno di libertà e cristiano hanno tagliato le gambe le braccia strappato la lingua e lasciati agonizzanti per il divertimento dei carnefici e come omaggio al loro dio il macellaio di Sodoma e Gomorra io ho finito di leggere la relazione fra le colpe dei farisei fradolcino e le bolle di Clemente V quando si leggono i passi evangelici occorre anche sapere esattamente dove portano quegli insegnamenti e cosa quegli insegnamenti hanno costruito nel crogiolo dello stragone abbiamo messo un elemento l'elemento che abbiamo messo è chiamare le cose con il loro vero nome ebbene noi non possiamo fermarci alla forma non possiamo fermarci alla scenografia non possiamo fermarci all'inganno noi dobbiamo chiederci il perché delle cose dobbiamo chiederci il senso delle affermazioni certamente se siamo stati educati attraverso il crogiolo del male è stata distrutta dentro di noi la capacità critica la capacità di essere esseri umani siamo persone di un gregge il gregge divino condotto dalla chiesa cattolica direttamente al macello se invece siamo esseri umani allora ci chiediamo il perché delle cose ricerchiamo il perché di quegli insegnamenti e dove quegli insegnamenti portano dopodiché ognuno può scegliere la parte essere uomo o essere carnefice la scelta è solo ed esclusivamente sua esistono scelte diverse ma esistono scelte di sottrazione e di autodistruzione bene io ho finito questa lunghissima trasmissione vorrei ricordarvi questo che ha attreviso proprio obbedendo ai canoni cattolici all'ideologia cattolica al modo di essere cattolico che è estraneo alla costituzione della repubblica italiana è estraneo al vivere civile ci è stata impedita l'uso della sal ci è stato impedito di professare le nostre idee di professare il nostro credo vediamo un attimo un attimo solo che sto guardando la conferenza di Treviso doveva illustrare questi argomenti la creazione nel paganesimo politeista la vita e la morte il concetto di divino come negazione del Dio cristiano l'essere assolutamente necessario l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica il circostante come coscienza i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione bene ci è stato impedito di illustrare queste cose in base al dogma cristiano secondo cui fai quello che voglio io e io ti ammazzo e questo è il cristianesimo noi accettiamo questo cioè subiamo la violenza ho sempre detto che davanti alla violenza e davanti alla fede critica la stregoneria e il paganesimo non possono nulla possono solo ritirarsi però a questa violenza reagiamo e la reazione a questa a questa violenza è stata è stata intanto premiata dalla cioè la CGL ci ha concesso la sua sala la sala Filt la sala della Filt presso il palazzo della CGL via Dandolo 2 Treviso cioè la CGL ha detto vabbè poi le disgraziai vi adò a me una sala in cui poter esprimere le vostre idee tranquillamente e la sala è la sala Filt a Treviso presso il palazzo della CGL in via Dandolo 2 Treviso ripeto ancora sala Filt palazzo CGL via Dandolo 2 Treviso la via Dandolo a Treviso più o meno è la sua strada che dalla stazione porterebbe a Venezia no? cioè fate il cavalcaferrovia e dovrebbe essere una volta giù dal cavalcaferrovia 50-100 metri dovreste trovarla sulla destra venendo da da stazione di Treviso verso Venezia niente questo è grazie a Pagani a persone che amano questa trasmissione che simpatizzano con le nostre idee ci hanno consentito di di fare di usare questa sala ricordo ancora la conferenza sarà tenuta sempre sabato 7 febbraio presso la sala Filt palazzo CGL via Dandolo 2 a Treviso alle ore 18.30 la stessa ora dell'altro luogo abbiamo messo in atto altre iniziative altre iniziative che sono quelle di protesta presso i giornali che è venuto fuori questo articoletto diciamo così sulla tribuna di Treviso altri giornali non hanno nemmeno preso in considerazione la cosa purtroppo dobbiamo prendere atto di questo e nello stesso tempo è stata bandata un'informativa non so come si chiamarlo esposto denuncia informazione di reato informativa alla procura generale della repubblica di Treviso proprio la persona di Candiani del dottor Candiani il dottor Gianfranco Candiani in quanto alle motivazioni con cui ci è stata tolta la sala il sindaco afferma solo ora con l'invio del volantino di pubblicizzazione se ne è evinta la natura che non è rispondente ai canoni di utilizzo di una sala pubblica comunale per il taglio dato alla discussione cioè il taglio dato alla discussione il punto di vista le nostre idee non sono tali da essere espressi nella sua struttura comunale lui praticamente si ritiene padrone dell'oggetto si ritiene padrone del modo di esprimere le idee e lui ci priva della possibilità di esprimere le idee ora nella comunicazione che ho fatta al dottor Gianfranco Candiani al procuratore di Treviso chiedo giustizia e chiedo di poter esprimere le mie idee in qualsiasi luogo pubblico a parità di condizioni che ci sono cioè se il luogo pubblico ti dice tu spendi 100 mila lire per avere la sala e la sala l'hai il giorno tot perché il giorno è libero o me la prenoto per il giorno io devo poter utilizzarlo esattamente come qualsiasi altra associazione culturale qualsiasi altra persona che ha delle cose da dire un esempio di questo è questa radio dove parlano tante voci diverse voci anche in contraposizione che però queste voci esprimono le proprie cose e questo è effettivamente la risposta etica morale e soggettiva di persone altamente morali che anche se non sono d'accordo lasciano gli spazi a chi è in grado di dire qualcosa qualunque cosa debba dire dopodiché se ne assumerà la responsabilità della cosa stessa allora ripeto ancora che io sono Claudio Simeoni se qualcuno vuole dei chiarimenti via delle Vignole 4 Marghera e un pubblico ringraziamento un pubblico ringraziamento devo farlo a Oreste a Oreste di Marcon che mi ha mandato un libretto interessantissimo sull'attività della chiesa cattolica all'interno dell'Igoslavia all'interno della destabilizzazione di Igoslave durante la guerra civile del 43 durante l'occupazione nazista lo leggerò attentamente e prenderò gli spunti che mi servono tanto per capire insomma che esistono delle tensioni diverse da quelle cattoliche esistono delle passioni e dei sentire diversi e allora vi ripeto ancora io sono Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera e ricordo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è una associazione culturale che stampa un bollettino l'ultimo bollettino che è stato stampato anche per ricordare quel radioascoltatore che dice tu non mi dici cose tue in realtà noi abbiamo già presentato il crogiolo dello stregone e il crogiolo dello stregone viene pubblicato come diffusione interna da parte di questa associazione richiedendolo all'associazione mettendoci dentro qualche soldino in busta insomma magari per i francoboli magari per la fotocopiatura potete avere tutto quello che è stato il crogiolo dello stregone presentato a questa emittente per cui telefonate o cioè scrivete perché è un indirizzo postale e l'associazione ve lo manderà come l'associazione vi manderà i miei libri cioè il libro dell'anticristo Gesù di Nazareth dell'infamia umana il sentiero d'oro ciò che porta a diventare eterni cioè che rappresentano parte importante del paganesimo parte importante della stragonaria richiedendoli sempre all'istituto mediterraneo gli studi poetisti il prezzo di fornitura è abbastanza basso insomma si parla di 15-20 mila lire insomma per cosa per cui non è che siano richiesti richiesti chissà quali cifre sono solo il contributo per la carta per la fotocopiatura bene io finisco qui la trasmissione ragazzi qualcuno è arrivato però il sottoscritto ormai alla voce che sta andando a paciocche vi ringrazio per avermi ascoltato e ricordatevi sempre bisogna sempre coltivare la propria libertà mai tirarsi indietro le battaglie ideali pagano sempre pagano come contributo al sistema sociale in cui viviamo soltanto la libertà all'interno del sistema sociale in cui viviamo ci garantisce di vivere al meglio trafficare schiavi essere furbi rubacchiare è sempre una cosa estremamente negativa anche se qualche volta è necessario farlo per la sopravvivenza o per adattamento è sempre bene pensare ad avere una struttura morale ad avere una dignità rispetto alle cose a sapere affrontare le proprie cose e la propria vita essere responsabili di se stessi sviluppare il proprio divino che c'è dentro e ricordarsi sempre nel paganesimo noi siamo dei dei inseriti in dei ognun divino ciò che ci circonda sono dei e noi lavoriamo per costruire il dio che abbiamo dentro se qualcuno chiede a un pagano sei tu un dio sì sono un dio e sono lo stesso livello di Apollo sono lo stesso livello del sole sono lo stesso livello della terra perché questo è il paganesimo è il divenire eterno della persona non l'assoggettamento a un dio padrone grazie per avermi ascoltato e a risentirci alla prossima trasmissione giovedì prossimo